Gli aeriformi non possiedono né volume né forma propri. Le forze di legame fra particelle sono di debole intensità e di conseguenza queste ultime sono libere di muoversi in modo disordinato, occupando tutto lo spazio a disposizione. Le particelle risultano mediamente distanti fra loro ed è per questa ragione che i gas hanno valori di densità bassi.